Io vado, spero come sempre che ci si veda, perché mi prende sempre al dubbio che non ci si veda Ragazzi, anche secondo me oggi è il giorno che parto convinto e invece non mi vedo Ragazzi, oggi siamo su Fortnite, vedete che... ma aspetta, ma io e Stef siamo scemi secondo me Perché? Perché? Come perché? Perché dobbiamo fare maschi contro femmine, siamo noi due contro loro due Sì, io mi sono confuso dopo 10 minuti e me l'ha ricordato Fere, però è un maschi contro femmine Platonico, aspettate, ora ci capiamo Allora, noi vogliamo fare che io ed Anna siamo contro Stef e Fere in un match da 4 persone su Fortnite Ci saremo soltanto noi e vedremo chi riuscirà a vincere Il problema è che noi nella nostra testa abbiamo considerato come se fosse maschi contro femmine Ma chi è il team dei maschi, secondo te? Beh, secondo me contando quanto è maschio Fere vinciamo Questi insulti gratuiti, che dici? Possiamo provare a partire e vediamo come va? Sì, vai Ok Allora, il primo come lo vogliamo fare? Io ho già messo pronto però, aspetta, aspetta, tolgo pronto Sì, sì, l'ho messo anche io, vai vai vai, tanto poi decido io quando parte Tu sei convinto che parla perché Stef qua dice che funziona tutto bene Secondo me Sì, l'abbiamo già provato, funziona, tranquillo A me già mi dice giocatori in coda 4, noi 4 Siamo noi 4 Ok, vediamo, vediamo, vediamo Io ne vedo soltanto, ok, faccio partire? Eh, credo che ci siamo, prova Vado? Vai Via, via, via Mi sta dicendo l'accesso quindi tutto sembra bene Sì, vedi, sei poco fiducioso Stefano Mamma mia, sei proprio bravo se allora Siamo soltanto in 4, dimmi quando ti può capitare di essere in 4 Soppa assurda comunque, un match di Fortnite dove siamo solo in 4 È strano Mi sta già venendo l'ansia Cosa? Allora, secondo me dobbiamo fare qualcosa C'è una regola? Eh, una regola per riportare in auge il fatto di maschi contro femmine prima di tutto Allora, secondo me il team dei maschi deve usare armi brutali, no? Maschie Invece il team delle femmine deve usare armi un po' più delicate Tipo il cecchino è un'arma da femmina secondo me E un'arma silenziate contro cucilia pompa e basta Pompa sono maschili i fucili a pompa, eh, sono cattivi Quindi io e ferie dobbiamo prendere pompa e voi potete avere cecchini e armi silenziate M4 cosa viene? È neutro È neutro Vabbè, vabbè, vabbè Mi sa che ci è andato un po' male perché il pompa è buono Dove andiamo? Ah, parco pacifico No, troppo avanti Corso commercio, ok, corso commercio Andiamo qua Vai, corso commercio Ma dureranno poco queste partite però, eh, secondo me Sì, io mi nascondo molto Sì Sì, la vuoi giocare da zozzo, eh Nessun modo dalla città Però puoi restare nascosto quanto tempo vuoi Secondo me Ok, non si può uscire dalla città, ricordiamocelo, eh Esatto Mai o mai Neanche se arrivano le bombe, ok? Ok, benissimo Allora, ci dividiamo? Sì Ciao 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 Vediamo se se ne sono andati C'è Ferre che non si... Mmm, voleva ascoltare Benissimo, benissimo, benissimo Anna Ma io già li vedo Non, io non... Cerca di venire da Mello E tu sei arrugginita su Fortnite perché hai giocato meno Mi vedi? Sì Vieni con me Le bende, le bende Non ti servono le bende Vieni con me Dobbiamo sciottarli, capito? Ok Appena li vediamo Li sciottiamo Però mi raccomando Cerchiamo di capire dove sono prima di tutto Perché altrimenti ci fregano a noi Allora Secondo me Steph è zozzo Steph è zozzo Secondo me Lui sta cercando di capire dove siamo noi In questo momento Aspetta Allora Io sono sul terrazzo che guardo Eh, io sono a fianco a te Di capire dove sono Li vedi Esatto Perché l'ho visti? Ho visto uno che atterrava proprio vicino a noi Però non sono riuscita a distinguere se era a te o a te Scendiamo Vieni, vieni, vieni Scendiamo Ma ho paura Dobbiamo trovare dell'altro Siamo troppo poco equipaggiati Ma come la mia mitraglietta femminile? Io ho trovato il mitraglino silenziato Ma questo fa schifo proprio È femminile, ma Non credo Oh Sei stato tu che hai aperto? Sì, ho aperto io la porta Ok Mitra normale Una cassa Ok Loro saranno già più equipaggiati di noi Ho trovato uno scudo, Anna Me lo bevero Ok Ma non posso usare il pompa, vero? Teoricamente sì Cioè Secondo me sì Poi non lo so Decidono quelli che ci guardano, eh Però io direi che senza il pompa non fai nulla su sto gioco, eh Quindi Io quello me lo concederei Cosa cerchiamo di fare? Perché dovremmo capire dove sono Senti una cosa, ma stariamo a pista? Eh certo, certo Se li vedi devi distruggerli, eh Va bene Ma prima di tutto dobbiamo cercare di capire dove sono Perché io non lo sto capendo Noi siamo sempre nella stessa zona Cerca di avvicinarti a me però E quindi Loro probabilmente staranno andando in giro Staranno raccogliendo risorti Guarda che la città è piccola, eh Eh, ok Però noi siamo stati in due palazzi in croce Vieni vicino a me Vieni vicino a me Arrivo, corro Allora qua c'è una casa E io sto cercando di capire dove sta Steph Perché Steph è uno che Gli dai un attimo, ti distrai un secondo Lui ne approfitta, eh Eh, lo so E poi è silenzioso, non fa rumore Aspetta In questa casa non è stato nessuno, credo C'è anche una cassa E se noi ce la giocassimo un po' sicura E ci mettessimo qua dentro con le porte chiuse E li aspettassimo Vieni al piano di sopra Arrivo Vieni al piano di sopra E stiamo silenziosi Cioè silenziosi per modo di dire Cerchiamo di captare i rumori Non camminare a cucciata Ho paurissimo, tu non capisci Ho capito Sei armata Non metterti davanti Buona, silenzio Trappole non ne hai, vero? No, non ho niente Peccato, peccato, peccato Aspettiamo E stiamo a vedere Sei tu che hai ricaricato, sì? No, ho solo switchato l'arma Ok, eri tu allora Benissimo Aspettiamoli per un po' Siamo dentro la zona Quindi per quello siamo anche a posto Oh, eccolo Sta costruendo Steph fuori Staglia Porca miseria, che male Come ha fatto a sapere dove eravamo? Eh, secondo me ci teneva dopo Stai attenta, sta sopra di noi Sta sopra di noi Sta uscendo Io esco di casa perché se no Siamo troppo prevedibili Vedo Fere, sono sul tetto No, mi ha atterrato Anna No Eh, vabbè Ma io lo sapevo Oh, che odioso Aspetta Mo' li trascin Dove sta? Sì, ma comunque Hai fatto tu una regola Che rendeva troppo svantaggioso per voi Aspetta Allora, intanto io volevo usarla comunque Il fucile a pompa Anche se non potessi Però Però come avete fatto a sapere dove eravamo? Siamo arrivati piano piano Abbiamo sentito un passo No, anche noi eravamo lì Fermi, fermi Oh, dobbiamo sapere se arrivano Dobbiamo sapere se arrivano Non abbiamo saputo se arrivavate Allora Adesso penso alla regola Che è un pochettino più equilibrata Ma non possiamo mescolare un po' i team Viene difficile Ma come facciamo a commentare poi? È quello È vero Facciamo una roba più Più particolare Tipo facciamo questa Senti questa qua Dimmi Possiamo aprire tutti una sola chest Ok E poi siamo obbligati a fightare Ma, ok, mi piace Mi piace, mi piace Una sola chest Ma senza raccogliere nient'altro? Fino a quando Non apriamo la chest Metti pronto intanto Metti pronto Possiamo aprire Tutto Cioè possiamo prendere tutta la terra Appena prendiamo la chest Finito, dobbiamo fightare Ok No, no, no Io te la complico ancora di più Vai Possiamo aprire solo una chest E non raccogliere nessuno No, il gruppo non è riuscito a connettersi Ah, devi rifarlo forse Rimetto pronto Forse devo cambiare parola Aspetta, possiamo mettere pronto Riproviamo Perché cambiare parola sarebbe un problema È impossibile Poi non siamo più quattro contro quattro Siamo quattromila Dai, dai che ce la fa 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 Tutti le mani in aria E diamo energia a Fortnite Perché ce la può fare Non ce la fa Non ce la fa Davvero dobbiamo cambiare parola Allora Fai, scrivigliela su Tinspiko Ma intanto io quando la scrivo si vede Passa la lì Vabbè così la scrivo io Aspetta, la posso ad Anna? Anna la potrebbe scrivere al posto Non posso Gestisco Forse Anna ce la fa Ok, ho messo Anna leader del gruppo Vai Anna, dobbiamo fare le robe strane Sei pronta? Ma come, dove si scrive? Devi andare sotto C'è scritto matchmaking personalizzato Ok Ma io non la so Voglio saperla Che cos'ha a che fare Ma è proprio inutile Mamma mia È bevissima È un cibo vero? Ok Sì proprio Cibissimo Hai messo? Appena start il game La possiamo dire Vai pronto Pronto Vediamo se se va tutto ok? Non faccia lo zozzo Signor Fortnite Giocatore in coda sei? Sei? Perché ci siamo Io, Steph, Fere, Anna Fere e Anna Io ne vedo quattro adesso Ora quattro Sì sono quattro Sono quattro Quindi Quindi Una cesta E basta E basta Solo una cesta Però Possiamo prendere gli scudini In più Ok Se trovi scudini Li puoi prendere Va bene O per il resto solo una cesta E se finiamo i colpi Piccone? Eh sì Ok Mi piace Mi piace Oh mio Dio Ragazzi Io voglio sapere Nei commenti Se vi piace vedere Questo genere di sfide Perché nel caso noi siamo volentieri Propensi a farveni altre live E altri video così Quindi fatecelo sapere Io porto a piccone secco Dici dove andiamo prima di tutto Facciamo un boschetto? Secondo me può essere carino Per una sfida simile Vabbè Aspetta Boschetto quale? Boschetto bisunto? Boschetto bisunto Va bene Perché c'era anche Borg Secondo me è anche troppo boschetto C'è troppa roba Eh forse era grandino Una cassa Però va bene Va bene Andiamo lì Ciao Ciao Ok Anna Scendi adesso Scendi adesso Hai già scesa Sì Va bene Vai in picchiata Ricapitoliamo Quindi possiamo utilizzare solo quello che troviamo nella chest Sì in una cassa Però puoi prendere gli scudini da terra Se trovi scudini E se per caso non ci sono abbastanza chest No ci sono Ci sono Sceglitene una Una la trovi di sicuro Guarda Se ne vede già una Sta lì sul tetto Mi pare No Sotto il tetto del burger Ce n'è sicuramente una Nella casa Nell'angolo anche Quale? Questa che sta E io non so dove sono loro però Io li vedo Sta uno nell'angolo opposto Ok Lo vedo Tu praticamente ti trovi in mezzo tra uno e l'altra Io sono andato nel burger Entro da dentro al burger così E Però la cassa Non possiamo prendere nulla Materiali Non lo so I materiali non abbiamo detto niente No Non abbiamo detto niente sui materiali E se non la troviamo la cassa? È quello che ti ho detto anch'io infatti Eh Tecnicamente non ci si dovrebbe poter sparare Qua sotto dovrebbe esserci una Tu cerca di cercarne una senza Cerca di cercarne Io l'ho trovata la mia eh Ok Sì buona cassa Pistola silenziata E scudini Pistola silenziata non è male eh Secondo me posso avere una possibilità Con la pistola silenziata Tu come stai messa? Hai trovato la tua cassa? Sì l'ho trovata Ok Fa che sia buona Cosa c'hai trovato dentro? Uno schifo Bene Ho trovato un fucile grigio Però c'ha trovato delle bombe Le posso usare? Certo puoi usare tutto quello che trovi dentro la cassa E allora uso le bombe Io inizio a mettere fuori il naso Non so dove sia Steph Vorrei riunirmi con te Perché sicuramente anche loro hanno trovato già la loro cassa eh Sì Questo è sicuro Sì E però non so dove possono essere Vengo verso di te Steph è atterrato in quella casa nell'angolo Fere non lo so Era vicino a me Ok Io sto venendo verso di te Ho paura Non uscire di casa Ma se sono già fuori Sto correndo verso di te Vieni qui Vieni qui Vieni qui Stai attenta perché da un momento all'altro li troviamo eh Ok Ci mettiamo tipo Questa è la casa dove sono entrata io Questa rossa Mattoni? Sì Ok E Steph era in quella lì grigia di fronte Ok Allora entriamo No qui non ci facciamo niente Possiamo provare ad andarlo a cacciare Vedere se riusciamo a beccarlo prima che lui becchi noi È solo che non ho idea di dove possano essere Non li vedo Quelli si sono accamperati da qualche parte stavolta Vieni Mi vedi? Stammi dietro eh Sì sì certo sono dietro di te Magari gli è andata di sfiga e non hanno trovato niente nella cassa Sarebbe bello Lui è venuto qua Sì È venuto per E infatti guarda guarda ha bloccato O forse è salito solo sopra Secondo me lui non è più qua Stiamo fermi non muoviamoci troppo Però non qui davanti alle finestre se no gliela facciamo un po' facile Ho paura Eh lo so anch'io Dove può essere? Proviamo a uscire di fuori Sì secondo me si è buttato fuori dalla finestra Per forza per forza è che non li vedo Allora Qui c'è un'altra cassa Oh sparano Oh io 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 Dov'è? Dov'è? Eccolo lì Attenta Dove? Eccolo lo vedo lo vedo lo vedo L'ho presi lo presi Mi ha buttato la bomba Ok brava brava Ma abbiamo pochissimi colpi Io li sto già per fine Attenta a fare dall'altra parte Attenta 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 Mamma mia Non ho materiali Anna Sparagli Sparagli No mi hanno atterrato di già Ma hanno anche gli scudi Eh io ce li avevo Te li dovevo dare Te li dovevo dare Che fail Sono troppo scarsa Comunque io Ma come potete avere più sfiga di noi? Io ho trovato 16 colpi di quella pistola silenziata Ma voi cosa avevate? Il mitra Io avevo la mitraglietta Quella stanchiata Quella brutta Bianca Anna che tu cosa avevi? Anna sai che cosa aveva Anna? Io non lo so Io avevo il fucile bianco Il fucile Eh vabbè il fucile ci sta Era Ferri e Anna con la stessa arma Aveva un po' il fucile bianco Comunque io a te ti stavo per ammazzare Tu poi ti sei nascosto Sì 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 Avevo usato soltanto i 30 materiali della cesta Sono stato onestissimo Io non lo so Io sono passato un po' sopra il legno Senza farlo apposta Ma tanto non ne ho usato Il problema è che avevo pochissimi colpi Di quella mitraglietta dannata Pochissimi La cesta è singola Era quello all'estremo Eh capito Cambiamo regola Cambiamo regola Sai cosa sarebbe una figata assurda? Tipo far entrare Altre quattro persone Ok E come facciamo a far entrare solo quattro? È quello È quello Non si può mettere tipo un limite E noi startiamo Appena viene raggiunto Possiamo provare ad essere veloci Essere veloci Dai dai proviamoci Proviamoci Unitevi unitevi Come vi invito Allora Non posso Unitevi Aspetta no Credo che vi devo invitare io Ok Perché altrimenti Io devo leftare No 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 Penso che con l'invito ti unisce e basta Invita Ok Anna accetta pure tu Invita Cambiamo parola E mettiamo Aspetta tu la devi dire Voi ragazzi vi potete unire Ma solo 4 di voi ce la faranno Giusto? Sarebbe quello il tentativo Speriamo che siano 4 misti maschi femmine Così 2 maschi 2 femmine rispettiamo anche la sfida Ci può stare Iniziamo a dirgli però le regole Così chiunque entrerà almeno l'ha già sentito Io direi che andiamo Si scende a Borgo Parco Pacifico Non si può andare via da Parco Pacifico Mai andare via a costo di morire con la zona non si esce Esatto Si può luttare per questa volta si può solo questo Parco Pacifico Si può luttare quello che si vuole bisogna ammazzarsi Parco Pacifico Perfetto La parola è forno 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 Ok Vai metti pronto Ok Sei prontissimo Sei prontissimo Aspettiamo siamo in 4 Siamo in 4 Il forno Aspetta i 30 secondi del ritardo della live Aspetta Vediamo come aumentano Aspetta Magari non entra nessuno Tipo 50 Anche secondo me Anche secondo me Parco Pacifico nel caso Parco Pacifico Appena vedo aggiornarsi prevo inizia Si Tu stai pronto Te lo dico io Ti faccio Ti spammo Aspetta Che ci vuole un attimo sicuramente Perché 30 secondi di ritardo della live ci sono Comunque devono magari alcuni di loro aprire il gioco Capito Magari non si aspettavano di essere invitati 9 9 Ok ce l'abbiamo fatta Ok 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 Oh perfetto Uno in più Uno da solo Come fa Ma povero Ma povero Eh magari vince 7 8 Non ci credo L'abbiamo azzeccata perfetta Vediamo se entra il nono Ma non ci credo Mi state dicendo che abbiamo fatto un 4 contro 4 perfetto Senza neanche volerlo Magari sono 4 maschi o 4 femmine O 2 e 2 come noi Ma guardate Chi sono Anch'io vorrei saperlo Ciao Ciao Non so il suo nome Lo vedremo Gonx Non è Gonx Gonx fa schifo È vero è simile a Gonx però Si muove come lui eh Ma Gonx non ha la bandiera britannica Hai ragione Hai ragione Gonx ha quello normale È vero Dov'è l'altro Gli altri anzi Gli altri Sai che non c'è un'idea Non lo so Facciamo anche io il ballo Così almeno siamo tutti felici di aspettare Ma io lo so fare davvero Questo ballo lo sai Sono proprio perfetti Laio non lo farlo davvero Lo so già facendo Dai Laio smettila Eh sono bravissimo Che vuoi Ma guardate non sai nulla Ma quello mi sta facendo il ballo loser Quello è molto brutto da fare alle persone Eh si è brutto Ma dici Ciò che penso che è successo Secondo me sono entrati 4 persone 3 però sono ancora in caricamento Eh non sta partendo È comparsa una coppia di fere E balla Sì ma secondo te parte Ok parte Oh mio di per un attimo pensavo di no Siamo i soldi Ok ci siamo Ok Ok Quindi 4 contro 4 4 contro 4 Parco pacifico basta Parco pacifico basta Due che hanno la skin Quindi comunque giocano tanto Capito Quindi forse no E poi comunque Chi entra veloce Di solito è quello anche Bello Arzil Eh 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 Secondo me È un game da giocare Normali Perché altrimenti ci bastonano Ok 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 vai vai Scendiamo anche vicini Che dite Eh si Io sono già scesa Vai 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 Atterriamo Verso il centro Verso il Loro Ricordatevi l'infamia delle live Loro sanno dove siamo È vero Eh beh Però io sto lontano da Lion No E io guardo sempre la minimappa Allora Così E lì Steph E zozzo Allora dove puntiamo Io sto lontano da casa moderna E allora io punto questo a fianco Dai Però povertà Io vado in questa qua Che sto nell'angolo Anch'io vado negli angoli Così Rischiamo di meno Mi sembra ragionevole Come cosa Tipo non in quella diroccata Perché è diroccata Comunque Oggi molti più spettatori Grazie a tutti E siamo Quanti siete? 9500 Uh È molto meglio dell'altra volta Ma perché l'altra volta Te l'ho detto L'altra volta c'era YouTube rotto Eh vabbè Può succedere Grazie a tutti comunque Ho trovato Una Desert Eagle Che è la mia arma preferita Di quando muoio facile Ok Ok Perché è bella Però è difficile È vero Confermo E basta E basta Beh 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 No io invece Sono messo bene Io ho trovato un fucile a pompa Perché ho il pompa Ho trovato il vampa fucile anch'io Eh Uno slurp Che mi bevo subito Ragazzi Chi è che farà? Mamma mia Che paura Che mi hai fatto prendere No 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 Non avete capito Mi stavo affissando E sparando E mi è venuto un asic Era dietro di me Che mi guardava e mi ha sparato Ma vabbè Che creepy comunque Mamma mia Sti comportamenti Ok Quindi sono aggressivi Mi stai dicendo Sì 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 Nulla di buono Ok Oh mio Dio Cos'è stato? Steph Era Veronica Ma sono io Eh vabbè ma la smetti Ma non puoi andare in giro così Arriviamo eh Arriviamo Dove sono? Vicino a te? Unitevi a me Unitevi a me Vi prego Io ho visto solo quel furfante Gli altri tre non li ho visti Manna dov'è? Io sto qui Manna è da solissima Dobbiamo andare La riscuiamo La riscuiamo Ok Io comunque un fucile a pompa È un mio Hanno trovato qualcuno? No 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 Però mi sono appena resa conto Di quanto siete lonti Scentani Ho pensato Vabbè dai Sono abbastanza vicini Io però qua c'è una cesta Eh questa la dobbiamo rubiegare Ma c'è un tipo? Come c'è un tipo? Non lo so Di sparo Dov'è? Ho il dubbio Prendi 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 Un lanciagranate Che buono Che mi ha fregato il colpi però Steph Davvero? Mi lasci una cosa? Vieni Grazie Ok Dobbiamo sentire i passi delle case I passi delle case Perché le case camminano Mi pare un simpatico Qui non c'è nessuno Mi avevo capito tanto Ok? Sì Capisci Steph Eh! Sparano! Da dove? Da dove? Verso est Anna dove sei? Anna sopravvive No no che ti sparano Dove stanno? Attenzione ti conviene passare dietro le case Infatti sto passando da dietro Raggiungi il nostro covo Io avrei detto che sono creepy quei quattro Sì ci spugliano E questo dov'è? Grazie Bello bello Ah! Che paura però Ho visto c'è una costruzione Vedi quella di legno Sì sono lì Eh sì ho visto i colpi di legno lì Sono svegli questi No no niente per sparare da lontano Ma uno è morto Aspetta È quello che ho ammazzato io all'inizio Ah vieni Lo accarezzavo Eh vabbè grazie Anna Mi ha fatto paura Mi ha rifornito Anna Bellissimo Cosa facciamo? Gli andiamo addosso? Sì Eh non lo so Vero? Eh oh 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 Cosa è stato? Sto giustando Anna che si cuca Anna che ha giù Ok Fai paura Dai vai vai con cattiveria Ti scura? Sì sì Mi smitragliano eh No no Ho visto che stanno rompendo cose in quella casa comunque Quindi sono dentro quella casa minimo in due secondo me Questa casa qui mattoni Quella tutta a destra di fronte a noi Ok Se le tiri con le granate Secondo me li fai scappare Beccola la finestra Provo Ma ora loro sanno che abbiamo le granate Non l'ho beccato Bravo Non l'ho beccato Questa sì Questa sì Questa sì Questa sì è bella Attento Vai 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 Sfonda No Non è a vero Eccolo Attento l'altro Lo sciatore L'ho beccato È il Psym L'altro è morto pure? Sì Mamma mia Ma erano anche equipaggiati meglio Loro erano in tre Ed è rimasto uno da solo Ah Poverissimo E dove? Poverino dov'è? Posso fare una cosa pessimista? Eh Pensate a quello da stare in giro Per la roba Zito Non lo dire No eh Ti prego Sarebbe brutissimo No dai Penso che sia qui dentro da qualche parte Per forza Paroda isca Camminando in mezzo alla città Immaginate se ci si presenta davanti ballando tipo E noi lo spariamo in te Ovvio No li chiudiamo tutti e facciamo vincere a lui Poverino Te lo merita Guarda che se glielo dici lo fa eh Vabbè vabbè Ok se ci si presenta ballando Lo facciamo vincere Ok Però Noi siamo al campo da calcio Giusto? Non mi sembri molto convinta No? Non sono molto convinta Io ho paura eh Non voglio restare qui fino alle otto Ho un'ansia Eh oh Può essere che tipo è atterrato male O non sa dov'è il parco pacifico Magari ce l'ha in inglese No dai ragazzi Può essere Secondo me è nascosto Io quasi ci scommetto che è nascosto in qualche casa Adesso facciamo un nascondino allora Eh sì Andiamo a cercarlo in giro Io ho un po' di granate ancora Tiro una granata di là Ok Io ve lo controllare Ho beccato Anna Oh mio dio Scusa Anna Non lo so dove può essere Io allora continuo a girare nella città Con la speranza di essere colpito Lo so Però non spara Ma secondo me questo qua veramente si è sbagliato eh E cosa facciamo? Aspettiamo Eh non possiamo mica restare col dubbio Se ci sei Esci Fuori esci Combatti E viene un parco pacifico Se non ci sei Se non ci sei E sei fuori dal parco pacifico Sei un picciu Perché Cos'è? Ho fatto col Richiamo Mi sono messo a giocare a calcio Mentre aspetto Cosa devo fare? Secondo me La prossima secondo me conviene farla Tipo un po' di più Tipo 12 3 team Sì Anche perché Tanto credo che in generale Saranno più veloci E anche al primo click di aggiornamento Saranno di più Perché ormai non ho già capito Come funziona Landazzo Stanto abbiamo passato i 10.000 E io sono molto contento Buonissimo Grazie ragazzi City good Però Stiamo qua ad aspettare L'ultimo player Eh Cos'è stato? Era la palla Ma vaffanquic Era la palla Te l'ho detto che Non lo so Dove sei? Ho preso il palo davvero Ragazzi Cosa dovremmo fare? Ma che facciamo? Ero io Cos'è successo? Ma l'hai visto? Io sto controllando tutte le case Io le controllo Io vado all'air drop Magari lui è attirato No non credo Comunque la zona è finita Cioè ora si esce Quindi O esce o muore Per la zona No No perché finché il tuo team è vivo Vedi il tuo team Esatto Corriamo Corriamo Com'era l'air drop? Ci penso io Bravo Ma non ci credo Dai che Come si chiamava? Martilla fra 0 3 Eh ma dai Ma non capisci Le consegne Questo quando gli dicono Di fare il compito di matematica Ci scrive sopra i promessi sposi Comunque Arrivava dal lago Quindi non so dove era Eh infatti Oh mamma mia Oh abbiamo detto Il parco pacifico No che pacifica La partita che non si trova Vabbè Mettila Che l'abbiamo trovata Metti la parola Allora stavolta Diamogli un attimo di più Io dico la parola E tu la metti Ok sei pronto? Sì Metti Corbezzolo Che è difficile da scrivere Dobbiamo mettere roba corta Troppo di più Ma ora metteranno tutti Corbezzolo Eh lo so È colpa tua È facile da scrivere Corbezzolo Metti Corbezzolo Ok 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 Allora metti Solo Bacca Bacca B-A-C-C-A Con due C Sì con due C Se no è bacca E vuol dire che Nella mela ci si è infilato il verme Bacca Ok Io l'ho messo e metto ready Metti ready Adesso 20-30 secondi Allora questa volta è diverso Diverso Questa è la partita dei 5 secondi Appena vediamo che entra qualcuno Contiamo fino a 5 E poi facci Fai che parte Ok Ok Vediamo quanti Giusto Tutti in una città Andiamo tutti a Sempre il parco pacifico Ho pinnacoli per cambiare Pinnacoli pendenti Ok Tutti pinnacoli Ok aspetta Aspetta Ho visto uno ma non vale secondo me No infatti aspetta No no Bisogna aspettare Secondo me questo ha sentito Corbezzolo E ha provato tutte le I tipi di Eh ma non hai contato Tu dovevi contare Almeno fino a 5 però Era tipo 36 E adesso Vabbè 36 sono Tutti a pinnacoli 36 persone a pinnacoli Guarda che sinceramente in un game da 100 Almeno 36 a pinnacoli vanno Quindi siamo anche di normalità Può essere Può essere Non si esce da pinnacoli Non si nasce fuori da pinnacoli Esatto Si vive a pinnacoli Esatto O si muore a pinnacoli Esatto Mamma mia Ok ci siamo Mi piace Regole extra no No per questa no Semmai la prossima facciamo qualcos'altro Si è divertente così Va bene così Almeno combattiamo tutti insieme Io sto studiando già le skin delle persone Oh salve Bel ballo Dove sei Ok Eh c'è un tipo che mi fa la breakdance qua Sono molti skinnati eh Eh lo so Ma perché una skin a volte non costa tanto Sai cioè ci sono quelle verdi che Quanto sarà? Due euro Non è tanto la skin in sé Proprio il fatto che Se hai la skin vuol dire che Ci giochi abbastanza Vero 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 Non compra nulla E gioca tantissimo però Vero Comunque Sono minime informazioni Bravo Parla forbito lui Sa di le cose Eh sì sì Sono preoccupato Perché lì è difficile eh Eh tranquillo Ti hai messo di fronte una sfida dura Lion eh Ma no ma no Siamo 35 comunque Ciò significa che Ci sarà qualche team diviso Ma mi sa che è più di uno il team diviso Perché anche prima Eh non erano uno contro uno No certo C'era uno in più Il gioco fa cose un po' strane ogni tanto Ok Siamo pronti? Partirà 3-2-1 3-2-1-1 3-2-1-1 Vai 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 Giù 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 Mi sono già buttato anche io Impiccichiata Dove andiamo? 35 alla fine Io sinceramente vedo dove mi porta il cuore in questa città Non scelgo mai Perché E' un po' detto ovunque ed è sempre complicato Io andrei al grattacielo Al grattacielo da solo non ci vado però Perché secondo me entra qualcuno Che hai visto? Dico che più o meno hanno rispettato tutti Sono tutti qua Sono tutti qua Ok fantastico Bello stormo Ho visto un'arma qui ma ho paura ad andarci Non ci vado Dice qualcosa di viola che bello Ma l'hanno preso già Eh ma c'è gente non c'è andare Sì Quella l'ho visto io Tranquillo Per il lì c'è un sacco di gente Aiuto Ho paura Sento sparare Ragazzi Sono io Sono buttati tutti giù dal palazzo Mamma mia Sono buttati di sotto Mi sono chiuso dentro E penso di sì Ma come? Sì sono tutti sotto che strisciano Ma cosa è successo? I tre si sono buttati giù dal palazzo Ma che mi devo dire? Mamma mia Ne ho ucciso uno No Ah ne hai ucciso uno Ok ho capito Laia ma tu devi essere il protagonista Ma stai a fare una ceppa Che è una cosa Sto luttando Luttare è una cosa da protagonista Uno giù Eh vabbè Ma non mi aspettano Fanno tutto da soli Se io poi muoio Piango Aspetta Ma io cioè Volevo anche fare Ma si sono tutti buttati Ve l'ho detto Dal palazzo Io sto trovando loot preziosi È importante Eh buono Buono dai Poi loot preziosi Neanche tanto Facciamo una gara di kill comunque Ma tu sei già in vantaggio Quante ne hai? Infatti E poi dovevi dirlo da prima Ho trovato quelli che si riusciavano a difere Chi è che spara? Ma li hai uccisi? Aiuto Eh ho visto un tizio Gli ho fatto da dietro Steph Questo Vai 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 Ne ho buttato a terra uno Mi sparano Vai Steph Vai vai c'è l'amico No è un nemico suo L'ho buttato a terra pure a lui Voglio le tue cose Scusa amico E già due Vai 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 Scusi dal palazzo Ti sta bene fare la gara vero? No Ancora no C'è uno lì dentro Spina oscura Stai attenta Ho paura O sei tu? Arrivo 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 Io sto uscendo dal palazzo Non lo finisco Eccolo Aiuto E' qui dentro Anna Lì dentro Spara Gli entra e spara Dove? Destra Raga ne avete uno dentro Dove sei? Anna ti ho chiusa dentro con lui Aspetta sono io Finiscilo Lo finisco Sì che ci servono le cose Vai 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 Tu sei bene come vita? Sì sì sto bene Ok mi prendo Ti sento un sudino? No No vai vai che c'è gente lì Anna corri Ah ci sparano da destra Attenzione a destra Steph Verso est Ma è un inferno Anche lì Le ombre Una terra di nuovo Aiuto Attento un altro qua Dov'è? Non si può così Mi prendo le sue cose Mamma mia Io tre Tu quante? Ah Che paura Con questo quattro Ma questo non aveva nulla Non conta secondo me Eh beh c'è Eh no Mi servono dei bruni Quanti ne rimangono? Io mi tiro a fare un uccelli Non ho niente io colpi Fede Hanno del pompa Sì vieni 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 Attenti non vi fermate C'è l'azione Ok Ho solo 29 colpi io Eh anche io Ma io ho ancora zero kill Ma vabbè Steph me le hai prese tutte Ma Stavo pigliando Tu vai Pum pum Sempre colpo Dove andiamo? Io sono in giro Sto facendo il giro E ho un potto di paura Eh sì Anche perché vi garantisco Che ci sono quelli bravi Eh Capito Certo Certo che ci sono quelli bravi Che questi Secondo me sono anche un pochino Camperati Eh Attenzione Anna Dove sei? È sul tetto Cacchio Sul tetto Quello alto Il tetto alto? Eh Che sta Quasi fuori L'ho visto lì Ad est Ad est Stai dove c'è il camion Sì lo vedo Uh guarda lì sopra Ah lì sopra il lion Sono io Dov'è verso di me? Dov'è? Eh ad est C'è il camion E sta dietro il camion Nascosto a covacciato Mi sa che mi ha Qualcuno ha fatto scattare Una trappola a fianco a me O la messa Ragazzi Io rischio Allora io rischio di qua Perché ho sentito gente qua dentro Lo vado a spanare Continuano a stare sul tetto però Non si fa Prendili scillini Cacchio qui è morto qualcuno C'è una trappola E nel tetto Ci penso io Aiuto aiuto Eccola Aiuto ragazzi Ho trovato una trappola E meno male che mi son fermato Perché l'ho sentita scattare prima Qualcun altro l'ha presa invece Sì Evidentemente sì Se l'hai sentita scattare sì Noi qui abbiamo persone sul tetto Quanti colpi hai delle mie 16 per eh? 98 Eh Anna ci riuniamo? Sì Anche noi? Ok Sei fuori Ce ne sono altri sei comunque Di cui almeno 2 a 3 nel tetto Aspetta che mi riorganizzo un attimo Colpito uno Ah lì sopra Aspetta Aspetta Colpito un altro Mi sa che c'è qualcuno vicino a me Però Stef se li stava rubando tutti Aspetta No li ho colpiti Non ho fatto kill Dove sei? Eh io sono per terra che guardo il pazzo Sei qui E l'ultimo palazzo tutto verso nord Anche Fede qua Anna vieni pure tu Eh sono proprio di fronte al palazzo Che tengo ad occhio il tetto Io non ne ho visto nessuno Gli andiamo addosso Caltellano come grilli Sì si vedono Andiamogli addosso Quello è un po' un casino Aspetta Andiamo addosso? Eh sì Sicuri? Eh Sicuri? Ma tu dimmi dove sono Io non ho materiale per andare addosso Neanche io Sono in questo palazzo Lion Eccone uno Qui Ma che fa? È mio Rubo No Che schifo Sei una persona Orribile Anna ha ucciso persone Guardala guardala Ma c'è sacco di gente lì dentro Anna si parte Vai vai Aiuto E poi aiuto Dopo li uccide tutti Dove? Vai Dove? Dove? Anna non c'è nessuno più Eh mi sono da scopra Vuoi un medikit? No stai No no mi sto curando Ok Stefani hai trovato Altri Eh vedo Non lo so hanno fatto cose strane Dove sei? Sei in alto? Sento sparare ma non so dove Sopra di me sei Arrivo Sopra sul tetto? Ce n'è altri? No non c'è più No sono finiti Vuoi essere la trappola è tua? Io la trappola Ah Ok E adesso? Eh Boh Ce ne sono tu Senti trappola per trappola La metto qui Sono due Sono due Non lo so Boh Ci dovete assaltare eh Voi due che rimanete Tanto ci vedete Qualcuno Ma siete voi sì Sì ho messo Lancerò una bomba Eh ne vedo uno Ne vedo uno È lì al camper Sono tutti e due lì Il camper Vedete il camper Aia L'ho preso L'ho preso Uno a terra Uno a terra L'altro è ancora libero Stef Mi prego Non voglio vincere con la morte Muori Stef Eccolo l'ultimo Lo vedo Lo vedo Aspetta Gli finisco l'amico Così si arrabbia No l'ho mancato Eccolo Eccolo è uscito Ho lanciato la bomba L'hai preso in pieno Davvero Ma l'ho lanciato alla cerca No Di che sei stata brava Ah sì Era tutto premeditato Ti tiri le piattaforme Cosa vuoi tu Stai zitto Come si fa a scendere con le scale Ok no Ok mamma mia Così Ok Io gli vado Stef Non me ne frega Vado con No tu non conti più Scusa Ma eccolo Le vedo Sono tutti noi lì Aiuto Dove sei finito Stef Vai Lion Non lo Non lo La zona No ma la zona Sono dentro il palazzo Cioè sotto Fuori dal palazzo Stef loro stanno scappando Ma lì nelle scale Ci sei quasi sì Fai veloce Comunque Io gli vado Moriremo entrambi Stai ferma Lo sai che moriremo entrambi Ecco qua Corri Ma gli altri due stanno scappando Guardali Stef E fanno bene E no Ma è una sola È colpa tua Sono due Hanno visto quanto stai crudele Quando mi hai lasciato morire E mi sa che si sono fatti il fortino qui Fai la scaletta e sali lì dentro Vai 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 Non ci si doveva muovere Non si che vede nulla Ma non si capisce più nulla Aiuto Chi è arrivato Ma l'ho ammazzato io No Sì Eh non ho sparato proprio Quando è morto Ah divertente È stata una follia Comunque mi sa che non mi volevano sparare Sai Perché li vedevo un po' Eh probabilmente a volte quando ti vedono Non ti vogliono sparare Dovevi sparare con crudeltà Io sono avviato Allora adesso cambiano le regole Sentimi di nuovo No aspetta 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 Devo dire una cosa importante Ok Ho ucciso quattro player Quattro è la prima volta Quattro Vabbè Vabbè vai Allora stavolta Facciamo una un po' più piena Che dite Sì Mi sta parlando Eh vabbè Non solo perché non ti ho rivivuto Non parlo con chi non resta gli amici Ti resto la prossima volta Lo prometto Sì sì L'ho promesso Allora adesso Facciamo Tipo full Facciamo da cento dai Facciamo i pazzi Facciamo i pazzi Facciamo i pazzi Facciamo i pazzi Allora la parola è Dimmene una Ma di tutto dove scendiamo Decidiamo un po' Facciamo scuola Qual è la scuola? La parola Ah Ok ok Pensavo hanno aggiunto la scuola su Fortnite Ci faccio le views Allora Facciamo scuola come parola Scuola però con la C Non con la Q È importante È importante E si scende? Facciamo in un posto picco No No Facciamo un corso commercio? Eh dai Ormai è detto Ormai è detto Corso commercio Corso commercio Corso commercio Parola scuola Tutti e cento a corso commercio Mi raccomando eh Sarà un delirio sarà eh Ma proprio una vergogna Io penso che ci sarà Ok sta entrando Non è che con le armi Perché non c'è l'equip per tutto È vero Non c'è l'equip per tutti Infatti noi dobbiamo fiondarci Ma di velocità Sì 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 Ma attento anche con i colpi E non sparare a vanvera Gente non armata Perché altrimenti Finisce anche i colpi Guarda È vero È vero Difficile 54 Speriamo che si riempia Sì 83 Ok Secondo me conviene Che la fai partire Quando ci siamo quasi eh Perché se no rischiamo Poiché Siamo in quella vuota E allora mi sa che Nel rimasuglio Ah no è partito da solo È partito da solo Ok Mi sa che l'hanno migliorato il sistema eh Forse sì Staremo cento quindi O è partito in 83 No secondo me è partito in cento Perfetto Quindi ricapitoliamo Tutti e cento a corso commercio Corso commercio Con cattiveria Sarà il delirio Delirio E Precisamente E E Non sprechiamo i colpi Eh Vabbè Sì siamo cento Perché altrimenti la fai Sì no no siamo Comunque cento È partito preciso a cento Cavolo Un game Tutto contro gli iscritti Ma adesso secondo Ma secondo me stanno cercando Tipo di trovarci Vediamo se mi metto in un punto e ballo Se qualcuno mi trova Faccio il ballo fresco Faccio il ballo fresco Che è il mio ballo Sì È il ballo di gruppo Venite anche voi Arrivo Guarda guarda Che bello Inizia a diventare una bella Sì sì vieni vieni Fai il tuo ballo Fai il tuo ballo Ma secondo me sta musica Comunque mi danno il copyright Perché io l'ho già sentita No vabbè Sarà cambiata Ma non sai che c'era anche io il dubbio Però non credo Eh No no Ti pare Ok quanto manca Eh vabbè Siamo tantini eh Sì Guarda lì La mia musica parte si ferma Perché sparano E quindi deve fare spazio agli spari Anche a me Guarda che delirio A me si sta pagando tutto Vedo la testa di Lion fuori dal suo corpo Eh vabbè Vabbè Ho visto il tuo personaggio fuori dal Per favore il gioco Perché c'è uno che c'è sopra Come sei chi sono Sì ho visto il tuo personaggio senza la maschera Davvero Che faccia È un tipo nero Mi sa quello classico nero di skin maschile Può essere Wow Mi sa proprio di sì Perché rimaneva la tua maschera che fluttuava Ma quindi io sono tipo un criminale Non un aviatore Perché ho la maschera Può essere Può essere Allora quindi Questo game Siamo 100 iscritti No siamo in 90 90 iscritti Più 4 di noi Quindi meno di 90 Non ci so fanno i numeri Allora Ci sono Vai Corso commercio è piccola Sì Dovremmo accontentarci Già Di poco A me dovrebbero bere già una pistola Io ho paura di non arrivarci bene Perché sono sceso troppo giù Io ho fatto un bel tentativo Sono abbastanza basso Quindi dovrei anticipare qualcuno su loot Anche io sono vicino a te Io devo aprire Anche tu hai aperto Mamma mia ragazzi Oh mio amico C'è un fluttio Che vuol dire tante persone che fluttano Di gente Che si butta Io sono dietro un po' Che non mi faccio nulla Io già vedo gente a terra che si è equipaggiata E moriamo eh Se moriamo Non sparate all'aviatore Ehi Cos'è stato Mamma mia Stef sono qua dentro Credo insieme a te Sì qua ci moriamo tutti È stata una scelta Ardita Stef Aspetta Eh Te lo piccono se vuoi Ma più che altro ti chiudo dentro Ciao Ah ce n'è un altro Te l'ho buttato giù Ma che hai buttato giù Non c'è nulla Picchialo picchialo Aiuto Non ho niente Arrivo 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 Una pistola Ti prego No Qua mi ammazzano Perché l'ho ucciso Ma con cosa Raga Ma cosa aiuto Io non ho trovato niente No Mi hanno atterrato Raga Non Ti prego Non lo fare Raga Mi sta ballando in faccia C'è un tizio Io non ho niente Quanto devo sopravvivere così Vedo gente che si spara Una pistolina È mia Ok Dove sei tu C'è gente Ma quando sei morto Aiuto L'ho trovato E questa è la pistola E l'ho ammazzato Bravo Vai via tu Mi serve la roba di questo No no Prenditela Prenditela Ah Che paura Scusa amico No ma non avevi niente Prendi quella buona buona Non hai bene Fere dagli le pende Dagli le pende Sì Mann è morta pure No Però uno me lo sono portato con me Ok Ne rimangono altri Secondo me dobbiamo aspettare un po' E lasciarli scannare Per un attimo Che dici Dici che ci nascendiamo Facciamo finta di nulla Secondo me è l'unica Però sono risentita Perché quello che mi ha ucciso Mi ha ballato in faccia Ahia È brutto quello È brutto Non si fa Voi pensate che ci sono ancora 50 persone Dentro a corso di commercio Aiuto Oh Che era Mi faccio un po' di materiali Che non ne ho Ah ok Quindi faccio le cose in casa Attenta eh che qua Senta nulla O ci facciamo un po' Munguiamo il naso fuori Io stai in ansia eh Eh Cavolo se stai in ansia Però abbiamo Ah è un tizio L'ho smancato Ma questo è povero Eh misericì L'ho beccato Ma non ha nulla Risparmia appunto Scusa amico Eh Mi stanno sparando Eh Mi chiudo Dov'è Alla vostra sinistra Mi c'è spugno No c'è spugno Lo voglio Faccio schifo Eh c'è un tizio Ah Un mio titolo Se fere Fere No Un mio titolo Eh vabbè Eh ma allora Se fere Killalo Sfracassalo No Eh ma il vampa a fucile No eh Comunque Il vampa a fucile Aveva Aveva lo scarco Stanno già ristendo di nuovo È morto anche quello Guarda aveva anche lo scarco No adesso dobbiamo vedere Chi vince però Ma sei mad Ci mettono tre ore ancora Torniamo alla lobby Questa volta Facciamo Un'altra Ok Però Meno Meno Diverso Non meno Allora Allora ragiona Cerchiamo di farne entrare Tipo Una decina Però andiamo A Spiagge snob Con una decina Dieci Quindici Eh Dai Ci sta No 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 Tu devi essere lesto Appena Vedi che entra il primo Dimmi la parola L'ho già messa Dimmela L'hai detta tu Come l'ho detta io Snob Lesto 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 con la L Sì Ma perché Perché hai messo Spiagge snob Lesto Lesto Ma lesto o presto Lesto 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 Va bene Metto pronto Sì scusi Ok aspetta la coda è piena 4 ok siamo solo noi Ok Io ti do il via Che io ho l'occhio L'occhio chirurgico Appena fonti che vai Aspetta Aspetta Ho paura Aspetta Eh vai Vai Erano 9 Eh guarda che secondo me sono già di più di 9 Perché è l'istante che ti cambia il Infatti siamo 12 Sì sì ha ragione Andava bene Andava bene Sì Perfetto Quindi spiagge snob Spiagge snob Mi raccomando eh 12 a piagge Perché dico piagge Troppe S Troppe S Secondo me ci può stare no Ci sono 4 case giusto Fa vedere Forse 5 È un po' lontano anche Secondo me qualcuno non ce la fa ad arrivare 13 siamo È aumentato di 1 Eh ma vedi com'è 1 2 3 5 case Eh siamo lontanini ma ormai dobbiamo andarci Perché non sentiranno tutti il cambio città Giusto Dobbiamo rispettare Ormai è quello Chi non arriva ci arriva a piedi Meglio anzi no Così magari noi ci arriviamo Comunque io sto facendo la sfida dei rimbalzi sulle gomme Pure io 1 2 Già failato 3 Anche io al 2 avevo già failato 5 Eh vabbè 10 secondi ci siamo Questa volta sarà penso l'ultima partita Facciamo se riusciamo a farla durare un pochino Che dite non lo so Non lo so eh Che poi Chiarei sono Arriva la cena ho fame Anche io ho fame Eh vabbè Ok Che sto aspettando pure la spesa Di Ti arriva la spesa a casa Adesso Sì abbiamo ordinato la spesa a casa Mamma mia Che sfaccagnato Abbiamo scoperto un nuovo servizio Lo stiamo sfruttando Oh Non interessa Allora Non dite il nome adesso Che non ci hanno dato niente Allora dove andiamo Quindi cioè A quando scendiamo Steph dai il via Adesso Ok vai 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 No ho aperto il paracaduto No ho aperto il paracaduto Va bene Verso l'alto In alto mi raccomando Cioè in alto il giusto Sì ovvio Se no poi stiamo fermi È lontano È lontano Mi raccomando non fatevi dessualare da lontano Se si è detto spiagge snob Si deve andare a spiagge snob Non è che uno Poi ho proprio problemi a dire spiagge snob Comunque Abbiamo trovato una palla di lion Come tutte le parole che dice Steph Io apro eh Io apro perché sono lontanissimo Steph apri pure tu Non ci arrivi Sì lo so lo so È che volevo stare un po' Io sono molto in alto Io ci arrivo giusta Ho fatto un buon volo Come ci gestiamo le case Io vado nella terza Secondo me dovremmo stare vicini comunque Se no non rischiamo ancora di più Due case dovremmo conquistare noi Eh Quali Perché la moderna È quella alla sinistra della moderna Io vengo con te alla moderna Non me ne frega nulla Io prendo quella con la piscina Va bene Di là c'è la cassa giù Sentite io vado alla cassa che c'è qua fuori A fianco a Steph E poi vengo da te Così Magari ho già qualcosa Uno l'ho visto andare nella casa più lontana Ho un vampa fucile Prendo anche lo scudo Mamma mia sono pronto E io non sei tu in casa mia? No No Cavolo Sta' attento Steph è già morto Eh Arrivo amico L'hai ucciso? Sì Era forte? Porca abbastanza Ok arrivo Ce n'è altri? Eh Spero di no Ma a me cos'è Ah ho interrotto di bere lo scudo Che scemo Steph com'è la casa qui? È sicura? Non credo No Sento sparare Ma io sento persone in casa mia C'è qualcosa per me? Ci sono io eh Ah ok Aiuto Dammi una roba Steph Non è nulla No c'ho il vampa fucile blu ma Io ho un vampa fucile bianco Ok lascia stare va bene Come hai ricevuto Andiamo Un pompa ci serve però eh Senza Cos'è stato? Anna mi avanzano scendini Sento caricare non sei tu Grazie Aspetta finisco Sfondo qua Mi sono baccato Ok andiamo Scendiamo usciamo 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 Sì 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 non mi piace questa casa Dove sei? Seguimi seguimi Aspetta vai 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 dove 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 Mi sa che cerchiamo di riunirci Sì Riuniamoci E' che io non sono equipaggiato Non mi lasciare da solo però eh Ci sono sei persone ancora Poche? Dove finite le altre? Si sono sterminate agli inizi No Eh sì Secondo me un paio almeno non sono riusciti ad arrivare però eh Magari arrivano a piedi in tardi non lo so Guarda che Sparano Chi è? Sparano Sparano eh Andiamo? Contando che ci sono solo sei Vuol dire che sono ancora due team che si sparano E quindi più o meno ci siamo tutti Ok vai 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 Ok Ho messo un'altra scala perché sono ceccato Vai Oh Da dove? Da dove? Qui Eccolo L'ho ammazzato Aia Aia Aiuto mi hanno atterrato Save me Save me Ce n'è anche uno oltre il muro Arrivano tutti da lì dalla casa di fronte Mi nascondo Aia mi sfianalchillano Mi vogliono sfianalchillare Venite Proteggetelo Anna vienimi a vivere tu Da dove sei? Qui oltre il muro Corri Io vi copro le spalle vai Vai coprici le spalle Presto Ok sono lì dietro Secondo me qualcuno ci sale Nella casa moderna Sì 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 qualcuno è sopra la casa moderna Tu rivivi mi Anna Non mi Non mi mollare Ok grazie Ok tieni le bende Eh avrò tempo di usarle In mezzo a tutto sto panico Grazie comunque Ah Sono io Sono io Ma sto gioco fa venire le paure però Aspetta che mi curano ancora Mi hanno buttato giù Bene C'è un tizio Buttateli giù Anna No che schifo che faccio Ma Anna Finisci lo sparagli nel sedere A me rivivi Sì sì aspetta Vai Che ansia Ho visto uno No non è vero È Steph Ok Sento camminare Steph È nella casa moderna Sì Ancora Sì Help Mamma mia Ti vivo io Non lo so da qualche parte Anna proteggici tu Mi raccomando No io sono col vampo Non ce la faccio La odio Aspetta Anche io Ecco ti vai Dove sei Dove sarà l'ultimo Secondo me è sul tetto Qui Io gli vado Sono due Andiamogli tutti insieme Ma non è nel tetto Perché questo team Ha morto tutto Ma io l'ho sentito camminare Era quell'ultimo che è morto Penso di sì Secondo me era Uno che Era gattone Tipo Però non so dove è scappato Credo qui Sì ho trovato del loot Dice che è morto camminando Sì perché era del team Che poi abbiamo fanacchilato Quindi lui è morto Sì E allora usciamo Secondo me gli altri Sono un po' lontani Bella domanda Qualche arma decente Lì c'è Anna E già non è stata sparata Quindi è già strano Non sono i miei sedi Qualcuna vende Io non ho nulla Ho tipo 18 colpi Anch'io non ho nulla Io non ho neanche legna Ma neanche io Non c'ho nulla Per quello chiedevo a voi Ma secondo me Un altro cielo Dobbiamo avere Quello ci sta aspettando Non importa I veri guerrieri Non temono la zona Ho trovato un altro fucile a pompa Però se noi moriamo di zona E loro sono in vita È vero Capisci Eh vabbè sto roba Che mi butta il fucile sbagliato Però mi fa arrabbiare Pochettino Ho trovato del loot Che era rimasto io Ok Quindi mi sento ricco In questo momento Dove sarà l'ultimo Forza vieni qua Che ti finisco Mi sparano Mi sparano Dove? Da qui di fronte no? Sì Eccolo lo vesto Lo vesto Preso È scappato L'hai visto dove è Steph? Morto questo? Sì Prego uno Fa vedere se magari erano insieme Lo vado a vedere Ah era in solo Sì Perché è instant morto Io Io non ho Sei di vita ragazzi Aspetta le belle Ah ok Ma tanto noi non possiamo Andarcene secondo me Che dici Cioè secondo me Se noi ce ne usciamo Secondo me Magari è qui Dai Quanti ne manca? È solo uno? È solo uno Ci sta che uno Oh scriveteci in chat Quelli che sono entrati Dove si trova? Oh magari esce Magari è ancora lì E ora esce Sta arrivando la zona Sì Cerchiamo di tenere d'occhio Magari lo vediamo Scappare fuori Ma spostiamoci un po' Anche noi Vediamo se arriva Eh proviamo Aia Aia Mi ha preso La zona Steph tu sei ancora Cos'è stato? Forse l'ho sentito Dici? No 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 Ci lasciamo finire dalla zona? Però mi scoccia Dargli la vinta Eh ma magari Quello là se n'è andato Eh sono dubbi giganti Eh sì 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 Steph non vuole morire Steph non vuole morire Steph muore Uff Bende Tao non c'è Non era lì Non era lì Perché sarebbe passato Dallo stesso percorso Che abbiamo fatto noi E non c'è finora Quindi vuol dire Che non era lì Eh non è riuscito Guarda nel dubbio Sono entrato nell'unica casa Che non avevamo fatto E non c'è No 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 Non c'era Non c'era Eh lo so Poteva non avercela fatta D'arrivare Però poteva arrivare A piedi eh Se la regola è quella Bisogna rispettarla Aia Bisogna rispettarla Mi sono fatto male da solo Cosa le dite? Dai qui ti ha Lasciamoci morire Ne facciamo una Eh così vediamo dov'è Vediamo dov'è Ci togliamo Eh brava brava Ok 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 Vai 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 Io mi lascio morire Tutti lasciatevi morire Anche io anche io Steph guarda Si è bendato Fino allo sfinimento Si è bendato Se vuoi continuo No Dovevamo lasciarci morire Per vedere dov'è l'ultimo Se lui fosse fuori zona E noi morissimo Prima di lui Può succedere Non fa nulla Noi dobbiamo soltanto Scoprire dov'è Vabbè tanto Non è che possiamo fare molto Eh non ci arriviamo Alla zona Poi tu ti sei bendato parecchio Eh se non era così Eh però sono andato Fino a 75 Secondo me se me ne tiro un'altra Non te la tiro Ah Non te la tirare Sei il sozzo Non ci riesco Dai Ma tanto può essere Anche dall'altra parte Della mappa Si ma guarda che sicuramente lo è Secondo me questo Eh è noto esatto Segnatevi il nickname Vediamo vediamo Ma lo dici lo dobbiamo mettere nel black Come si chiama Death Note Esatto esatto Poverino Immediatamente Vediamo eh 17 Tra poco collasso io Vediamo Se lui non muore in questi istanti vuol dire No lui non muore Era fuori Era nella zona Ma non era quella la regola Eh 5 4 Addio Vediamo Ma ce lo farà vedere Secondo me no sai The Anthony 06 Sì 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 Secondo me lo vediamo Vediamo dov'era Ma dov'era A pinnacoli pendenti A pinnacoli pendenti Ma dai ma che zozzo però Beh era vicino È impossibile che abbia fatto tutto quel tragitto Però se la regola era quella Eh vabbè capita dai Vabbè vabbè Magari alcuni non la sentono Quindi vanno Eh non è vero No 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 Bisogna Dico a morte Ecco Facciamone un'ultima Facendo entrare tutti Cosa dite Sì E andiamo a Esatto Scegliamo una bella città Diversa stavolta Una zona diversa Una zona che non è una città No Sarebbe brutto Con cosa ci pichiamo Allora facciamo una città Però mettiamo una regola particolare No regole particolari Poi ci sciotano Esatto Se vuoi fare qualcosa di abbastanza folle Come cittadino Potremmo andare nella nuova Ok come si chiama C'è Natale Città nuova Vabbè città nuova Approdo avventuroso Approdo avventuroso La parola è L'hai messa? Aspetta che toloredi No posso scegliere io la parola Vai Balena 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 è lunga Va bene Balena è lunga E beh la balena è grossa comunque Vabbè Balena si va ad approdo Com'è? Approdo avventuroso Approdo delle balene Avventuroso La nuova città La nuova città Dai abbiamo capito Oh mamma mia Questa nuova città avventurosa Siamo ancora a 10.000 comunque Nonostante sono passate le 8 Sono contento Grazie ragazzi E adesso Non è tra nessuno No Non è così Forse balena Hai scritto bene balena Ficca l'ha scritto bene Ah si l'ha scritto bene Guardali guardali Eh vabbè lui non sa le parole Non ha mai fiducia No Eh Chissà come ma Non ti ho ancora perdonato Da quando non mi hai fatto Ma ti ho risuscitato prima Eravamo 111 Eh lo visto pure io Secondo me siamo in 11 Eh no Ti prego no eh 11 persone giocheranno da sole No no siamo almeno 40 Quindi dai Sì siamo Sì siamo Ok quindi questa volta Prodo avventuroso Città nuova Tutti Nessuno faccia Se arriva la zona State lì dentro Eh sì infatti Non si può uscire Cercate i medic Bende Però state lì Non fate i furbi Noi ci siamo rimasti prima Bravo Dicelo un po' Dicelo un po' Non si esce Dicelo un po' Approdo avventurato Non avventuroso Ma avventurato che Vabbè È uguale È uguale Vuol dire che ci approdano Quelli che gli piace L'avventura Fanno schifo le traduzioni Delle città No no Sono belle Somma C'è di nuovo lo sciatore Britannico di prima E lui entra sempre Eccolo là Allora Quanto siamo lontani Dov'è il taglio Non lo vedo Da qui Ah neanche troppo Perché comunque va molto Verso il basso Non c'è la scusa Che non ci sono potuto Arrivare Questa volta Niente Eh Ok L'importante è che ci capiamo Io Penso che questa volta Muoio subito Perché già prima Ho rischiato E ne sono morto Se vanno in centro In una città Vai 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 Via via Ti garantisco che Non dura nessuno molto Eh lo so Comunque secondo me La mia skin ha un bonus Durante la planata Sai Perché sono un avviatore Non credo funzioni così Come no Scusa Il T-Rex per esempio Ha un bonus Nel camuffamento Perché se si mette Il cespuglio sopra È verde Chi lo vede più Ma guarda Quello è il cavaliere nero Scompare Di notte Di notte Scompare così a caso Sì È la prima volta Che vedo la nuova città È bella Non sarà bella Molto bella Allora io vado Nella torre Provo no La torretta Quella lì Che c'è la cassa Dillo Così vediamo Quanta gente Ti viene a cercare Vabbè ci sono 30 secondi Perché ci posso arrivare No Eh vabbè Vedi come cambiano roccia C'è Aspetta Non c'è la cassa Ecco perché non c'è venuto nessuno Oh porca miseria Aiuto So che sto per morire So che sto per morire So che sto per morire Un fucile Ah Mi tirano le granate Ah Uno con un fucile Non mi sparare Mi chiudo la porta Steph Steph Uno morto Ho trovato uno morto Come hai fatto a trovare uno morto Eh che striscia Ah Un altro che mi vuole sparare Ma questo non mi spara Ma che amico No mi vuole sparare invece Aspetta Aiuto Steph No ma hanno scelto Fere Ti prendi Ammazza lì Quello con la palestra Mi hanno ammazzato L'ho detto io Questa non ce l'abbiamo fatta proprio Mamma mia Io non ho trovato niente Io non ho trovato niente Niente Eh Eh Vabbè Non so neanche da dove sono stato Ma non è giusto Ci sono le persone che camperano con il cecchino Sai cos'è Che questa città Questa città è ancora più piccola Sì E infatti ti ha detto Se vuoi capirio Ho visto una scena bellissima Un tizio seduto curato Precisino Perfetto Gira l'angolo C'è un altro Bam Va bene Torniamo alla lobby Io direi che possiamo concludere Sono soddisfatto Ce ne dite Sì Sì Dai Va bene Allora Mi raccomando Fateci sapere un po' nei commenti Penso di poter continuare a leggere la chat Anche adesso che si chiude Se vi farebbe piacere vedere delle altre sfide tra pochi Piuttosto che andare in un determinato punto Cose del genere Ed io per questa volta vi auguro una buona serata Da Lion Steph Fere Ed Anna Out E adesso devo trovare il coso Che non lo trovo mai E non mi viene bene l'outro Ciao